Ciao a tutti, scusate ma breve video per dire che il video del post partita verrà messo online non so se fra un oretto appena avrà finito l'elaborazione di YouTube però purtroppo lo mando in linea così com'è, cioè con i tagli automatici fatti da YouTube perché dopo aver fatto un video di 16-17 minuti verrà tagliato mi sembra 14 così perché sul sottofondo c'è una partita in diretta su Sky e quindi praticamente o praticamente perdevo tutto il video dovevo rifarlo sinceramente non ho né tempo né voglia oppure lo mandavo così che comunque la maggior parte del video c'è per le prossime volte cercherò di stare attento al fatto di non lasciare una partita accesa in sottofondo perché sennò basta che beccano un pezzettino in cui si vede mezzo logo o mezza azione e praticamente bannano il video quindi niente scusate ma questa volta dovete beccarvelo così post partita tagliato un po' a cazzum da YouTube in automatico perché deve rimuovere i contenuti contenuti protetti se no me lo banna tutto quindi niente volevo solo dirvelo prima di pubblicarlo vi saluto e a dopo ciao